Sale a 55 il numero di cittadini positivi nel comune di Agropoli. A renderlo noto il sindaco Coppola ho ricevuto un aggiornamento da parte dell'Asle in merito a tre nuovi casi di positività al covid-19 nella nostra città. Fanno riferimento a persone inserite in catene di contatti di precedenti casi. Il numero di positivi attuali sale a 55, mentre resta fermo a 62 il numero di guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia. Inoltre nella giornata di ieri il sindaco Adamo Coppola ha firmato una nuova ordinanza che prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado fino al 9 dicembre. Un nuovo positivo invece nel comune di Capaccio Pestum e ben sette nuovi cittadini che negativi all'ultimo tampone di controllo possono essere considerati guariti. Il totale degli attuali positivi nella città dei Templi si aggiorna così a 85 unità, con 223 persone in isolamento domiciliare e 81 guariti totali. Buone notizie invece per il territorio di Castellabate, che ha ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione Asla di Salerno nella serata di ieri la buona notizia che due persone si sono negativizzate e quindi guarite. La situazione attuale è di 19 persone positive e 26 guariti. Al via la ricostruzione dei contatti di una persona non residente positiva al covid che la scorsa domenica ha partecipato alla messa nel comune di Rutino. Non appena siamo venuti a conoscenza ci siamo attivati immediatamente per fare quanto necessario, lo dichiara il sindaco Giuseppe Rotolo in una nota stampa. In particolare, sottolinea il primo cittadino, abbiamo subito ricostruito la catena delle persone che gli si erano avvicinate, informandole immediatamente di quanto c'era stato comunicato. Abbiamo invitato queste persone a non uscire e ad attendere che l'Asla si metta in contatto con loro. Abbiamo immediatamente comunicato nomi e numeri di telefono all'Asla di quanti si erano avvicinati alla persona risultata positiva. Abbiamo altresì preso atto di quanto comunicato dagli interessati e da altri presenti circa il fatto che la persona positiva ha sempre indossato la mascherina disinfettandosi le mani quando necessario. Confidiamo sull'aiuto di tutti per tenere alta l'attenzione con il buonsenso che il momento richiede. Non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio o necessità di informazioni, conclude nella nota stampa il sindaco di Rutino. Nella giornata di ieri registrati purtroppo anche due decessi nel Cilento, Don Matteo, parroco di Perdifumo, è un cittadino del comune di Salento.